buongiorno buongiorno coccodrilli e come dice quello la buongiorno un cazzo no è una bella giornata forza si parte stamattina ho un pennello pazzesco mamma mia che pennello proprio per spennellatutto le signorine dietro come stanno bene va via eccola guardate che bolle due brufoli guardate guardano male è così però pazzesco vi ricordo che domani vi aspetta le 16 alla parisi dakar intanto stiamo selezionando perché qualcuno verrà qua a fare un giro con me sulla abart quindi vi aspetto domani mi raccomando che serietà numero uno maia dormivo la numero uno grande noi siamo qua luca all'età mia mica c'erano cioè c'erano ma poi ci sono loro no è lei scusate qua con Emma grande ma ha dato anche un cadeau che è vino è una cosa buona è una cosa buona cosa buona per nonno nonna maria e per tutti i coccodrilli grande numero uno il navigatore quindi è dovuto carica una e due a milano capita così pronto il navigatore pronto ci siamo ci siamo via via eccoci qua healthy color grazie mille buon appetito davvero buono buono se magna brava arzuche io già ho mangiato qua tutti che fanno le foto ai piatti precisi io sono un po più a me quando mi piace magno cioè tipo mi dà gusto fare anche un po di adesso sinistro antipasto misto arzuche mi piace questo che è questo? è il bao è il chicken burger non è il cane? il bao non è cane bao bao no no mu l'assaggiamo che moneta è? che moneta è questa? è fatta di pomodoro ah cioè è fatta di pomodoro no? no sai si faceva la pizza subito eh no perché io sono un cantante prendo ispirazioni bella se si girava era meglio se girava tonda ah pomodoro è pelato? no arrivederci si ma lei si chiama margherita? no è pomodoro margherita ma dove siamo? dove siamo? a Radeschilo è pronto? è pronto? lo fa anche la foto lo fa anche